Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo arrivati al giorno 56 del percorso i 100 giorni con la Doc Giulia. Stasera vi vorrei parlare della pace del cuore. Cosa fate quando vi trovate in una situazione difficile che convolge i vostri sentimenti più interiori, gli affetti delle persone più care, tipo una malattia di una persona cara o un evento acuto? Come fate a riequilibrarvi? Io personalmente affronto la situazione e per scaricare la tensione cerco di camminare. Infatti adesso io vado a camminare con il mio cane perché per me oggi è stata una giornata veramente molto difficile e anche i prossimi giorni saranno difficili. Buonanotte a tutti!